La tragedia del secolo, ho perso contro un livello di Venom Allora dici, mo devo rifare tutto da capo, ora non più Perché dici come faccio? Into my past, M, O, N, E, B Modem, mettiamo submit E guardate qua, accetta Caricamento, e siamo a Venom Sì, il fatto del secolo